La proprietà commutativa di Lake Louise, cambiando la specialità la vincitrice non cambia ed è sempre lei, Sofia Goggia, un weekend veramente da favola per la 29enne Bergamasca che dopo aver portato a casa le due prove di discesa libera, la sua specialità regina, quest'oggi nel Super G riesce a conquistare un'altra vittoria facendo back to back to back sulle nevi canadesi. Veramente un weekend perfetto per l'atleta appunto italiana che si riporta anche in terza posizione per quanto riguarda la classifica generale di Coppa del Mondo con sostanzialmente tutti i punti conquistati nella tre giorni canadese perché aveva conquistato sino a venerdì solamente 15 punti nel gigante di apertura sul graciaio Rettenbach di Solden. Una gara ottima anche per le altre italiane a partire da Federica Bregnone ma anche Elena Curtoni con una buona prova anche di Francesca Marsaglia che tra l'altro è partita con il pettorale numero uno per cui è stata anche un po' penalizzata da questa cosa e comunque è riuscita a fare una buona gara. Una gara che quest'oggi si è decisa per pochi centesimi e si è decisa nel finale laddove in discesa libera la Goge aveva fatto la differenza andando ad aumentare il proprio vantaggio che già era riuscita a conquistare nei primi settori. Quest'oggi invece si trovava in una posizione diciamo di inseguimento nei confronti della ticinese Laragut Berami dominatrice della scorsa stagione nelle prove appunto di Super Gigante che dopo due prove deludenti fuori dalle 15 in discesa libera beh quest'oggi nella sua specialità è tornato di nuovo a fare la voce da padrone. Tra l'altro in questa gara non c'è nessun atleta che diciamo mi ha stupito in maniera assoluta per non so delle curve in particolare. E' stata una gara piuttosto pulita piuttosto di livello molto alto generale non abbiamo visto grossissimi errori se non diciamo sul saltino finale dove alcune sono finite larghe a partire dalla nostra Curtoni ma anche Schifrin e altri atleti sono finite piuttosto larghe però in generale è stata una gara piuttosto pulita per la maggior parte delle sciatrici. Quindi Malagoggia è riuscita a fare veramente una linea perfetta nel finale affrontando il saltino con una linea veramente eccezionale e nell'ultimo settore è andata a recuperare quasi quattro decimi si trovava in svantaggio di 25 centesimi rispetto alla ticinese e con questo finale strepitoso è riuscita a passare in testa e a conquistare questa ennesima vittoria. La quattordicesima per lei in carriera in Coppa del Mondo la quarta nella specialità del Super G. Seconda posizione appunto per Lara Gutberami che chiude a soli 11 centesimi. Terza posizione per Miriam Kukner che ha fatto una gara veramente strepitosa un weekend anche per lei fantastico. Terza posizione nella prima prova di discesa ieri ha chiuso un'ottava posizione e di nuovo sul podio quest'oggi partendo con il pettorale numero 29 riesce a conquistare una terza posizione con una gara molto regolare sin dall'inizio fino alla fine a 44 centesimi di distacco da Sofia Goggia scalzando dal podio la compagna di squadra Tamara Tipler che chiude appunto in quarta posizione a 50 centesimi. Per quanto riguarda la quinta posizione occupata dall'altra atleta italiana l'ultima vincitrice tra l'altro del Super G affrontato l'anno scorso in Val di Fassa al passo San Bellegrino stiamo parlando di Federica Brignone che chiude quinta a 53 centesimi. Sesta posizione invece per la leader di Coppa del Mondo che dopo veramente due prove molto deludenti in discesa libera sappiamo che non ha preparato la discesa libera assolutamente per questa stagione però diciamo sperava di guadagnare qualche punticino in più sulla rivale Petrovlova nella discesa libera considerando appunto l'assenza della Slovacca ha conquistato solamente 5 punti nelle scorse due gare mentre quest'oggi fa una buona prova chiude in stessa posizione a 58 centesimi da Sofia Goggia guadagnando dunque 40 punti per quanto riguarda il discorso classifica generale di Coppa del Mondo una prova tra l'altro che l'ha vista in testa nei primi due settori era comunque dietro rispetto al tempo di Lara Gutberani che è stata la migliore al lancio e nel secondo settore ma davanti a Sofia Goggia poi però nel finale ha perso veramente tantissimo ha perso ben 5 decimi solamente nell'ultimo settore Michela Schifrin tra l'altro ultimo settore molto più adatto appunto alle specialisti della discesa tant'è che era molto simile a quello che abbiamo visto ieri e l'altro ieri per cui ha perso veramente tanto ha chiuso dunque in stessa posizione settima posizione per un'altra italiana Elena Curtoni anche lei ha sbagliato tanto nel finale ha perso anche lei circa 5 decimi peccato è andata larga sul saltino finale peccato perché era una gara comunque da podio e sarebbe stato un podio veramente clamoroso per Elena Curtoni che chiude settima a 64 centesimi più staccata l'atleta di casa Marie-Michelle Gagnon ottava a un secondo e03 stesso tempo con Johan Helen chiude la top 10 con lei che ha chiuso in seconda posizione sia nella discesa di ieri che quella dell'altro ieri stiamo parlando della statunitense Bracey Johnson che chiude appunto decima quest'oggi a un secondo e08 sappiamo che lei è proprio una discesista pura per cui in Super G fa più fatica comunque un buon risultato per l'atleta di casa per l'atleta statunitense scusate tre centesimi potenzioni dunque per Francesca Marsaglia anche lei è una buona prova essendo partita anche con il pettorale numero uno quindi veramente una prova ottima per le italiane con 4 in top 15 ma soprattutto appunto il risultato clamoroso di Sofia Goggia andiamo a vedere un po' brevemente quello che è il podio attuale della Coppa del Mondo Generale anche se chiaramente siamo solamente all'inizio 405 punti per Michaela Schifrin 55 di vantaggio su Petrovlova che ne ha appunto 340 e Sofia Goggia in terza posizione a 315 con il fatto che si sono riequilibrate finalmente quest'anno le prove tecniche e quelle di velocità diciamo che Sofia Goggia potrebbe farci un pensierino ma non aggiungiamo nulla comunque ragazzi direi che per questo è un video di tutto vi piace il commento vi piace iscrivervi se ci sono le nostre pagine di Instagram e ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti